L'AIS, in generale, le associazioni che tengono assieme cultura, storia, tradizione e anche poi i nostri prodotti sono per noi molto preziosi. L'AIS in particolare ha il vantaggio di occuparsi di un argomento che per noi è essenziale, cioè quello del vino. Abbiamo in più occasioni detto quanto nell'ambito della nostra agricoltura, delle nostre produzioni, il vino occupi un ruolo determinante e questo ruolo determinante diventa sempre più prezioso anche grazie al contributo di chi fa dei momenti di degustazione, dei momenti culturali, per chi fa di fatto la promozione di ciò che viene all'interno delle aziende, elaborato, prodotto e quindi costruito con tanta famiglia. Per me quindi, come dicevo ai ragazzi prima, con le loro storie, con la loro passione per il vino, sono elementi essenziali del sistema Puglia e sono elementi vincenti del sistema della promozione. in quanto è stato. Vorrei ringraziare la Regione Puglia, specialmente l'assessore che mi ha premiato oggi in questo mondo nella Fiera del Levante, che è importantissimo per quello che è la comunicazione del vino, specialmente per le migliaia di persone che passano qui. Noi sommelier alla fine abbiamo il ruolo importante, quello della comunicazione, quello di trasferire quello che il produttore ci porta nel calice. Grazie a tutti.